ciao angelo benvenuto qui con noi in co foundry che bello intervistarti avere la possibilità di raccontare insieme a te Yarova l'azienda di cui tu sei il country manager italia raccontaci un po di questo nome così importante Yarova che è un po difficile da pronunciare sì sì è effettivamente difficile da pronunciare è una storia interessante perché uno dei nostri fondatori diciamo la l'ha ideato è un è il nome di una se posso usare questo termine tribù indiana che anche dopo catastrofi naturali e momenti molto molto difficili è riuscita attraverso una forte resilienza ad adattarsi e a prosperare i nuovi i nuovi i nuovi i nuovi contesti e quindi un po quello che Yarova si si pone di fare per i nostri clienti di adattarsi a nuovi nuovi tempi nuovi e soprattutto nella nell'ambito della digitalizzazione ecco sì a proposito di questo raccontaci bene quali sono i servizi e cosa offre Yarova ai suoi clienti sì sì allora Yarova è una è una piattaforma di vendor management digitale che supporta le compagnie assicurative principalmente ma anche property manager o leasing company nella nella gestione del processo sinistri digitalizziamo appunto tutto il processo di gestione dei vendor delle compagnie assicurative quindi la gestione dei dei periti delle carrozzerie degli avvocati medici eccetera eccetera e lo facciamo end to end in maniera veloce trasparente e appunto digitale ok quindi scusami questa è una piattaforma tutti gli effetti è una piattaforma è assolutamente una piattaforma che si integra attraverso diversi livelli di integrazione ai sistemi di gestione sinistri delle compagnie e rende il lavoro sia del fiduciario che della del liquidatore sinistri molto molto più semplice riusciamo in nello stesso luogo diciamo come detto processo end to end digitale a gestire a gestire tutto tutto il processo di di gestione del vendor quindi dalla selezione del fiduciario alla appunto al alla gestione dell'incarico alla creazione della perizia fino alla parte di liquidazione e di feedback che si dà al fiduciario sia da parte del liquidatore sinistri che da parte dell'end customer quindi la piattaforma si chiama Yarova Yarova esatto perfetto e scusami in questa piattaforma quindi chi è presente nella piattaforma sulla piattaforma di Yarova gli utenti della piattaforma Yarova sono le compagnie assicurative e i loro network di fiduciari quindi come ti dicevo periti auto non auto avvocati medici carrozzerie eccetera perfetto voi siete presenti come Yarova siete presenti qua in Italia e siete soprattutto però nascete dove? Yarova nasce in Svizzera nel 2017 a Zugo dove gran parte del nostro team è basata poi da lì cresce nel 2019 abbiamo aperto la struttura in diciamo il branch office in Germania Monaco dopodiché nel 2021 abbiamo aperto l'ufficio in UK e da quest'anno siamo qui in Italia quindi avete cavalcato anche l'onda ahimè del covid come ha recepito insomma come Yarova come ha affrontato questo momento? ma diciamo come azienda è digitale completamente digitale è riuscita ad affrontare il periodo covid in maniera abbastanza efficiente e siamo riusciti comunque a crescere in questo periodo poi il nostro business è legato quasi totalmente al business assicurativo che comunque anche con un minor numero di sinistri è cresciuto nel periodo della pandemia purtroppo certo un'altra domanda scusami che mi incuriosisce Yarova chiaramente sviluppa appunto tutto un percorso a livello digitale e nel mondo assicurativo ma per quanto riguarda il futuro adesso si parla tanto di digitalizzazione di quello che sono i passaggi anche a livello proprio strutturale del territorio del mondo della realtà di quello che avverrà nei prossimi anni che progetti avete in mente che cosa avete in mente di attivare per quanto riguarda anche il mondo assicurativo per renderlo sempre più innovativo come avete già fatto con la piattaforma? Sì allora senz'altro è l'introduzione di una nuova soluzione che si chiama automated cover check quindi controllo automatico delle coperture del polizze è un'altra soluzione che si pone all'interno del processo di gestione sinistri proprio all'inizio quando il liquidatore sinistro apre il sinistro e controlla le coperture di polizza attraverso questa soluzione riusciamo a fare un controllo automatico veloce di quello che realmente la polizza copre diminuendo così quello che in gergo si chiama claims leakage è una funzionalità molto importante che abbiamo da poco introdotto e che speriamo abbia un buon riscontro sul mercato italiano ma anche europeo nei paesi dove siamo presenti. Vogliamo comunque che la nostra piattaforma evolva con il mercato ed è un po' una filosofia di Yarova una cosa molto interessante di Yarova è che pone al centro dello sviluppo della piattaforma i suoi utenti quindi la compagnia ma anche i fiduciari attraverso il nostro centro di supporto ci danno feedback continui che noi raggiunta una massa critica sviluppiamo e mettiamo in maniera abbastanza democratica a disposizione di tutti gli user della piattaforma ed è una cosa molto interessante perché ci aiuta molto a rimanere rilevanti in linea con le necessità reali del mercato L'esigenza delle compagnie per voi diventa un servizio da poi sviluppare ad altre compagnie che si avvicinano a voi? Sì, come ti dicevo prima il fatto di mettere il cliente quindi la compagnia assicurativa al centro dello sviluppo della piattaforma ci permette di poter sviluppare feature o dinamiche molto importanti per la compagnia stessa che poi possono essere sicuramente importanti anche per gli altri user della piattaforma Benissimo, per quanto riguarda invece la struttura aziendale di Yarova appunto come mi dicevi è presente in tante realtà a livello mondiale come è strutturata? C'è chi si occupa anche della parte commerciale che immagino che sia abbastanza un lavoro molto presente all'interno di Yarova e poi tutto il susseguirsi di realtà che seguono tutti i processi che sviluppano la piattaforma Sì, allora Yarova ad oggi ha un team che è principalmente come ti dicevo basato a Zugo in Svizzera c'è il nostro headquarter, lì abbiamo il nostro centro, il nostro hub tecnologico dopodiché in ogni paese si è sviluppata un team più piccolo dove però sono rappresentate tutte le principali funzioni che servono nella messa a terra delle progettualità legate al mercato locale quindi oltre alla figura del country manager che si occupa principalmente di tutta la parte commerciale e della gestione un pochino del branch office vi sono figure come quella del technical architect, del business requirement engineer, del project manager che seguono localmente proprio la, come ti dicevo prima, la messa a terra del progetto E voi che vi occupate di digitalizzazione, come fate comunicazione per quanto riguarda Yarova? Bella domanda Allora siamo molto attenti, partecipiamo senz'altro agli eventi di mercato quelli più importanti in ambito assicurativo o di property management quindi quelli dove partecipano i nostri clienti quindi questo è uno dei principali canali di comunicazione, lato nostro ovviamente usiamo i social, usiamo moltissimo LinkedIn Angelo, raccontaci tu, Angelo Campanale, country manager Italia di Yarova raccontaci il tuo percorso, come sei arrivato in Yarova? Da dove provieni? Da dove provengo? Allora io ho fondamentalmente passato gli ultimi 15 anni nell'industria assicurativa ho cominciato la mia carriera nel gruppo Munich Re che è un riassicuratore, uno dei più grandi riassicuratori al mondo ho passato un po' di anni lì tra Milano e Monaco di Baviera dopodiché ho lavorato nel gruppo generali e prima di arrivare, di approdare in Yarova ho passato circa tre anni e mezzo nel gruppo Swiss Re particolarmente a lavorare come responsabile del business developer dell'area South Europe per IPTQ che è l'assicuratore diretto digitale del gruppo Swiss Re quindi una carriera nell'industria assicurativa e ora sono a servizio dell'industria ma faccio parte di una tech company è una cosa, è un'esperienza molto molto interessante un po' perché siamo entrando sul mercato italiano quindi stiamo costruendo appunto sia diciamo tutta quella che è la business pipeline ma anche il team locale che abbiamo appena finito di assemblare e anche la tipologia di business è molto interessante soprattutto in questo momento quindi nonostante il tuo mondo il mondo assicurativo questa però è una grande sfida perché è sicuramente un po' diverso rispetto al ruolo che avevi prima sì, sì, sì diciamo è una sfida dal punto di vista dal punto di vista di prodotto perché ora proponiamo un servizio un prodotto alle compagnie mentre prima ero all'interno dell'industria quindi i nostri prodotti erano le polizze benissimo grazie, grazie mille grazie Angelo di aver insomma partecipato a quell'interview aver raccontato di Yarova è stato un piacere essere entrata in merito del vostro mondo perché fino ad ora insomma non lo conoscevo bene adesso avremo il piacere di presentarlo anche alle altre aziende che ci sono in cofoundry spero di rivederti presto per la prossima intervista così raccontiamo i passi successivi di Yarova assolutamente grazie mille grazie a te grazie grazie a te grazie a te